Buongiorno a tutti. La decisione come inaccettabile, secondo quanto fatto sapere dal suo ufficio. Gli ha fatto ecco il ministro delle finanze Smotrich, secondo cui è delirante permettere agli aiuti di raggiungere Hamas. Secondo media israeliani, la leadership militare aveva informato il livello politico. Comunque al premier sono state date rassicurazioni che le operazioni a Rafa proseguono come previsto. Non è chiaro se la pausa tattica decisa dall'esercito consentirà agli aiuti di raggiungere il nord di Gaza, dove la situazione umanitaria è al limite della carestia. Li sono morti altri due soldati israeliani domenica dopo il decesso di otto in un blindato sabato nel sud.